Il Consiglio Comunale di Arco convocherà una seduta straordinaria per trattare il tema della casa di cura Eremo, a rischio sia per quanto riguarda il progetto di ampliamento che sui posti di lavoro. Alla seduta sono stati invitati sia i vertici dell'Eremo sia l'assessore provinciale Luca Zeni. È importante che sia chiaro, questa è una questione che va al di là delle differenze politiche, spiega il sindaco Alessandro Betta. Speriamo che la questione si chiuda prima del 26 aprile. Nell'attesa di capire cosa verrà a dire il responsabile della Sanità Trentina, l'iniziativa potrebbe in effetti avere il merito di accelerare una partita ferma da almeno tre anni. Da tempo aspettiamo che la provincia chiarisca i termini della questione, spiega il direttore di Eremo Fontana, con l'intenzione di Trento di applicare un taglio fino al 30% per un valore economico che tocca il milione di euro.